Un treno soppresso ogni due giorni, corsi che in alcuni casi accumulano in ritardi fino a 50 minuti, centinaia di segnalazioni su bagni rotti unutilizzabili e poi sporcizia sui sedili, monitor delle carrozze che segnano costantemente l'ora sbagliata. E questa è la desolante fotografia della linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla, scattata attraverso i dati del monitoraggio della linea effettuato dalla Regione Emilia-Romagna e chiesti dalla capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. Altro che pochi minuti di media ritardo illustrati da Tipera ai sindaci di Bagnolo, Guastalla e Novellara, che proprio ieri avevano segnalato gli impegni in atto per cercare di azzerare ritardi e disagi. Anche i dati sui primi nove mesi del 2018, forniti dal report regionale, confermano che le criticità riguardano la linea Reggio-Guastalla e sono moltissime. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2018 sono stati ben 151 le corse soppresse, con una media di un treno soppresso quasi ogni due giorni. Qualcosa sembra essere migliorato a ottobre, probabilmente grazie ai solleciti legati all'avvio di una raccolta di firme tra pendolare i cittadini in tutta la zona della Bassa, da Reggio a Bagnola, Novellara fino a Guastalla.